Leo. Dopo l'irruzione in un museo pieno di fantasmi sudisti, Leo non pensava che la giornata potesse andare peggio di così. Si sbagliava. Non avevano trovato niente nel sottomarino della guerra civile né da nessun'altra parte, tranne qualche turista anziano, una guardia di sicurezza appisolata e, mentre tentavano di ispezionare i reperti, un intero battaglione di zombie luccicanti in uniforme grigia. L'idea che Frank fosse capace di controllare gli spiriti? Beh, non aveva dato grandi risultati. Quando Piper aveva mandato un messaggio iride per avvertirli dell'attacco dei Romani, i ragazzi erano già sulla strada del ritorno, dopo che un branco di spettrali sudisti inferociti gli aveva rincorsi per tutto il centro di Charleston. Poi, oh dèi, gli era toccato scroccare un passaggio da Frank la grande aquila amica per combattere insieme contro un gruppo di Romani. Doveva essersi sparsa la voce che era stato lui a bombardare Nuova Roma, perché quei Romani sembravano avere una gran voglia di accopparlo. E non era finita lì. Nella convinzione che fosse un'aquila romana, Edge gli aveva presi di mira con la balista. Frank aveva mollato la presa e tutti e tre avevano fatto un atterraggio di fortuna a Fort Samter. Mentre Largo 2 sfrecciava sulle onde, Leo doveva mettercela tutta per mantenere la nave tutta intera. Percy e Jason erano un po' troppo bravi a provocare enormi tempeste. A un certo punto, Annabeth comparve accanto a lui, e sopra il ruggito del vento, gridò, Percy dice che ha parlato con una nereide nel porto di Charleston. Buon per lui, gridò Leo di rimando. Secondo la nereide dovremmo chiedere aiuto ai fratelli di Chirone. I party pony? Leo non aveva mai conosciuto i centauri pazzi della famiglia di Chirone, ma aveva sentito parlare dei combattimenti con i fucile sparavernice, delle gare di birra e delle pistole ad acqua riempite di panna montata. Non lo so, ma ho le coordinate, disse Annabeth. Puoi inserire latitudine e longitudine in questo affare? Posso inserire mappe stellari e ordinarti un frappè se vuoi? Certo che posso! Annabeth snocciolò i numeri. Leo in qualche modo riuscì a digitarli mentre teneva il timone con una mano sola. Un puntino rosso comparve sul display di bronzo. La posizione che mi hai dato è in mezzo atlantico. I party pony hanno uno yacht? Annabeth scrollò le spalle, confusa. Tieni insieme la nave finché non ci allontaniamo da Charleston. Jason e Percy alimenteranno i venti. Sarà uno spasso? Sembrava passata un'eternità, ma finalmente il mare si calmò e i venti si placarono. Valdess, lasciammi il timone, disse Hedge con sorprendente gentilezza. Sono due ore che piloti tu. Due ore? Sì, dammi il timone. Coach? Sì, ragazzo? Non riesco ad aprire le mani. Era come se le dita di Leo fossero diventate di pietra. Gli occhi gli bruciavano a furia di guardare l'orizzonte. Le ginocchia gli erano diventate come marshmallow. Dopo qualche sforzo, Hedge riuscì a strapparlo dal timone. Leo lanciò un'ultima occhiata alla console e sentì Festus che vibrava. Ebbe la sensazione di essersi dimenticato qualcosa. Fisso i comandi, tentando di riflettere, ma non servì a niente. I suoi occhi riuscivano a malapena a mettere a fuoco. Stia attento ai mostri, disse al satiro. E sia prudente con lo stabilizzatore rotto. E... È tutto sotto controllo, lo rassicurò Hedge. Adesso vattene! Leo annui con aria stanca. Attraversò il ponte barcollando e raggiunse gli amici. Percy e Jason erano seduti con la schiena appoggiata all'albero maestro, la testa china per la stanchezza. Annabeth e Piper stavano tentando di convincerli a bere un po' d'acqua. Hazel e Frank erano fuori portata d'orecchio ed erano impegnati in una discussione che comportava un sacco di gesti con le braccia e scrollati di testa. Leo non avrebbe dovuto esserne contento. Una parte di lui, però, lo era, mentre l'altra era dispiaciuta di esserlo. La discussione si bloccò all'improvviso, non appena Hazel vide Leo. Tutti si radunarono sotto l'albero maestro. Frank aggrottò le sopracciglia, come se cercasse con tutto se stesso di trasformarsi in un bulldog. Non ci insegue nessuno. E non si vede terra da nessuna parte, aggiunse Hazel. Aveva un colorito verdognolo, ma Leo non capiva se fosse per via delle oscillazioni della nave o della discussione che aveva avuto. Il figlio di Efesto scrutò l'orizzonte. Niente tranne l'oceano in ogni direzione. Non avrebbe dovuto esserne sorpreso. Aveva trascorso sei mesi a costruire una nave con l'obiettivo di attraversare l'Atlantico. Ma fino ad allora il loro viaggio verso le antiche terre non era sembrato reale. Leo non era mai uscito dagli Stati Uniti, a eccezione di un breve volo sul Drago fino al Quebec. In quel momento, invece, si trovavano in mare aperto completamente soli. Navigavano in direzione del mare Nostrum, l'origine di tutti i mostri spaventosi e di tutti i giganti malvagi. I romani forse non li avrebbero inseguiti, ma i sette semidei non potevano contare nemmeno sull'aiuto del campo mezzosangue. Leo si tastò la vita per assicurarsi di avere ancora la cintura degli attrezzi. Purtroppo, quel gesto gli fece tornare in mente il biscotto della fortuna, infilato in una delle tasche. Sarai sempre l'escluso, la settima ruota. Dimenticati di Nemesi, si disse a Leo. Concentrati sulla roba che puoi riparare. Si girò verso Annabeth. Hai trovato la mappa che cercavi? Lei annui, pallida. Leo si domandò cosa avesse visto a Fort Samter per essere così scossa. Dovrò studiarla, disse come se con quella frase volesse chiudere il discorso. Quanto manca alle coordinate che ti ho dato? Alla massima velocità un'oretta, rispose Leo. Qualche idea su ciò che stiamo cercando? No, ammise lei. Persi? Il figlio di Poseidone sollevò la testa. Gli occhi verdi erano iniettati di sangue. Lo sguardo era spento. La Nereide ha detto che i fratelli di Chirone erano lì e che avrebbero voluto sapere dell'acquario di Atlanta. Non so cosa intendesse, ma... si bloccò, come se avesse già esaurito le forze. Mi ha anche avvisato di stare attento. Ceto, la dea dell'acquario, è la madre dei mostri marini. Sarà anche esiliata ad Atlanta, ma lei può sempre spedire i suoi figli sulle nostre tracce. La Nereide ha detto che dobbiamo aspettarci un attacco. Fantastico, borbottò Frank. Jason tentò di alzarsi, ma non fu una buona idea. Piper dovette afferrarlo per evitare che cadesse di sotto e lui si sedette di nuovo sotto l'albero maestro. Possiamo sollevarci in volo, chiese. Se ci riuscissimo sarebbe fantastico, concluse Leo. Ma Festus ha detto che lo stabilizzatore aereo di Babordo si è polverizzato quando la nave ha grattato contro il molo di Fort Samter. Avevamo fretta, intervenne Annabeth. Stavamo cercando di salvarti. Una nobile causa, concordò Leo. Dico solo che ci vorrà un po' per ripararlo. Fino ad allora non possiamo volare da nessuna parte. Percy scrollò le spalle e fece una smorfia. Per me non c'è problema. Il mare mi va bene. Parla per te. Hazel lanciò un'occhiata al sole della sera, che ormai era quasi all'orizzonte. Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo bruciato un altro giorno e a Nico ne rimangono solo altri tre. Possiamo farcela, la rassicurò Leo. Sperava che Hazel lo avesse perdonato per il dubbio che aveva espresso su suo fratello e gli era sembrato un sospetto ragionevole, ma non aveva voglia di riaprire la ferita. Possiamo arrivare a Roma in tre giorni, salvo imprevisti. Frank sbuffò. Sembrava che stesse ancora tentando di trasformarsi in un bulldog. C'è qualche bella notizia? A dire il vero sì, rispose Leo. Stando a Festus, il nostro tavolino volante, Buford, è tornato sano e salvo mentre noi eravamo a Charleston. Le aquile non l'hanno preso. Purtroppo però ha perso la sacca della lavanderia con dentro i tuoi pantaloni. Che cavolo, mugugnò Frank. Leo pensò che per i suoi standard doveva essere una parolaccia tremenda. Senza dubbio il figlio di Marte avrebbe imprecato ancora un po', attingendo a tutto il suo repertorio di urca e maledizione. Ma Percy lo interruppe piegandosi in due e lamentandosi. Il mondo si è capovolto? chiese. Jason si portò le mani alla testa. Sì, sta girando come un vortice, è tutto giallo. È normale che sia giallo. Annabeth e Piper si scambiarono un'occhiata preoccupata. «Quella tempesta vi è costata tanta energia», disse Piper ai ragazzi. «Dovete riposare». Annabeth concordò con un cenno. «Frank, puoi aiutarci a portarli sotto coperta?» Frank lanciò un'occhiata a Leo, senza dubbio riluttante a lasciarlo da solo con Hazel. «Tranquillo, amico», lo rassicurò a lui. «Cerca solo di non farli cadere sulle scale». Quando gli altri furono scesi, Hazel e Leo si trovarono l'uno di fronte all'altra, imbarazzati. Erano rimasti soli, fatta eccezione per Edge, che era sul cassero di poppa, a cantare la sigla dei Pokémon. Il satiro aveva modificato le parole in «Gotta kill em all» e Leo non aveva la minima voglia di scoprire perché volesse ammazzarli tutti. La canzone non sembrò placare la nausea di Hazel. Si sporse in avanti, stringendosi i fianchi. Aveva bei capelli, ricci e castano dorati come bastoncini di cannella. A Leo fecero venire in mente un locale di Houston, dove preparavano dei ciurros fantastici. Gli venne fame soltanto a pensarci. «Non ti sporgere in avanti», le consigliò, «e non chiudere gli occhi. Così peggiori soltanto la nausea». «Davvero? Anche tu soffri il mal di mare?» «Il mal di mare no, ma mi viene la nausea quando vado in auto e…» Leo si fermò. Avrebbe voluto dire «quando parlo con le ragazze», ma decise di tenerselo per sé». «In auto?» Hazel si raddrizzò con difficoltà. «Sai pilotare le navi e i draghi e soffri di mal d'auto?» «Beridicolo, no?» Il figlio di Festo scrollò le spalle. «Sono fatto così. Senti, tieni gli occhi sull'orizzonte. È un punto fermo. Ti aiuterà!» Hazel trasse un respiro profondo e puntò lo sguardo in lontananza. Aveva gli occhi dorati e lucenti. Aveva gli occhi dorati e lucenti, come i dischi di rame e bronzo, nella testa meccanica di Festus. «Un po' meglio?» chiese Leo. «Forse un briciolo sì, ma sembrò solo una risposta detta per educazione». Hazel teneva gli occhi fissi sull'orizzonte, però Leo ebbe la sensazione che stesse cercando di capire come stava lui, per decidere che cosa dire. «Frank non ti ha fatto cadere apposta», disse infine la ragazza. «Non è da lui. È solo un po' imbranato a volte». «Ups!» disse Leo, imitando il più possibile la voce di Frank Zhang. «Ho fatto cadere Leo in un plotone di soldati nemici! E che cavolo!» Hazel tentò di ricacciare indietro un sorriso. «Sorridere è meglio che vomitare», pensò Leo. «Vacci piano con Frank», disse lei. «Tu e le tue sfere di fuoco lo innervosite». «Quel ragazzo riesce a trasformarsi in un elefante e io lo innervosisco?» Hazel continuò a tenere gli occhi fissi sull'orizzonte. Sembrava che la nausea le stesse passando, anche se Edge continuava a cantare la sigla dei Pokémon. «Leo, a proposito di quello che è successo al Great Salt Lake...» «Ci siamo», si disse Leo. Ripensò all'incontro con Nemesi, la dea della vendetta. Il biscotto della fortuna nella cintura degli attrezzi ricominciò a sembrargli più pesante. La notte prima, mentre volavano via d'Atlant, lui era rimasto disteso nella propria cabina, a pensare a quanto aveva fatto arrabbiare Hazel e a cercare dei sistemi per rimediare. «Presto ti troverai di fronte a un problema che non saprai risolvere», aveva detto Nemesi. «Potrei aiutarti, ma tutto ha un prezzo». Leo aveva tirato fuori il biscotto della fortuna dalla cintura degli attrezzi e se lo era rigirato tra le dita, domandandosi quale fosse il prezzo da pagare. Forse era quello il momento adatto. «Lo farei volentieri», dissi a Hazel. «Potrei usare il biscotto della fortuna per trovare tuo fratello». Hazel era sbigottita. «Che cosa? No, voglio dire, non te lo chiederei mai. Non dopo quello che Nemesi ha detto sul terribile prezzo da pagare. Ci conosciamo a malapena». Quelle ultime parole lo ferirono un po', anche se le cose stavano davvero in quel modo. «Allora non era di questo che volevi parlare?» le domandò. «Eh, volevi parlare di quando ci siamo tenuti per mano sulla roccia? Perché no!» si affrettò a dire Hazel, sventolandosi la faccia con quel gesto carino che faceva sempre quando era agitata. «No, stavo solo pensando al modo in cui hai ingannato Narciso e le infe...» «Ah, giusto!» Leo si guardò il braccio, con imbarazzo. Il tatuaggio con la scritta figaccione non era del tutto spiadito. «Mi era sembrata una buona idea sul momento». «Sei stato strepitoso», disse Hazel. «Ci ho ripensato. Mi hai ricordato tantissimo...» «Sammy!» Leo aveva tirato a indovinare. «Vorrei che mi dicessi chi è». «Chi era», lo corresse lei. Anche se l'aria della sera era tiepida, Hazel rabbrividì. «Ho pensato che... forse potrei mostrartelo». «In foto?» «No, mi capita di avere dei flashback. È tanto che non mi succede e non ho mai tentato di provocarne uno apposta. Ma una volta ne ho condiviso uno con Frank, così ho pensato...» Leo cominciò a sentirsi nervoso, come se gli avessero fatto un'iniezione di caffè. «Se quei flashback erano una cosa che Frank aveva condiviso con Hazel...» «Beh, lui non voleva saperne nulla, oppure voleva assolutamente provarli. Non sapeva cosa scegliere». «Quando dici flashback...» deglutì. «Di cosa stiamo parlando di preciso. È una cosa sicura?» Hazel allungò la mano. «Non ti chiederei di farlo, ma sono sicura che è importante. Non può essere una coincidenza il fatto che ci siamo incontrati. Se funziona, forse possiamo finalmente capire il collegamento che c'è tra noi». Leo lanciò un'occhiata verso il timone. Aveva sempre il dubbio di essersi dimenticato qualcosa, ma sembrava che Edge se la cavasse bene. Il cielo era limpido, non c'erano tracce di guai in vista. E poi un flashback sembrava una cosa piuttosto rapida. Che male c'era lasciare il satiro alla guida della nave per qualche altro minuto? «Va bene», c'è dette infine il figlio di Efesto. «Fammi vedere». E prese Hazel per mano. Il mondo si dissolse.